La vacanza di benessere sta per iniziare. Dal 13 al 18 agosto saremo a Salsa Maggiore Terme in un grazioso country hotel tra le colline. Si è già formato un bellissimo gruppo di persone positive, motivate, desiderose di dedicare le loro ferie al benessere. Per stare bene, ricaricarsi, rigenerarsi e imparare come restare in forma e mangiare bene tutto l'anno con i nostri corsi di massaggio ayurvedico e cucina salutista per tutti. Arcangelo sta scegliendo per voi quali bellissime tecniche di massaggio insegnarvi per fare stare bene chi riceve ma anche chi massaggia. Serena sta organizzando dei menù speciali per sorprendervi mettendo insieme tanto gusto e tanta salute a tavola come nessuno sa fare, ve lo assicuro e lo proverete. E io non vedo l'ora di accogliervi perché so che questa esperienza lascerà un segno positivo e indelebile non solo durante la vacanza ma anche soprattutto dopo come tanti partecipanti mi hanno raccontato negli anni. Questo video è per dirvi che ci sono ancora due o tre posti disponibili quindi se cercate una vacanza intelligente, sana, divertente e utile tutto l'anno scrivetemi subito e farete parte di questo gruppo di nuovi amici alla ricerca del benessere non perduto ma ritrovato. Vi aspetto naturalmente, ciao! Salute!